Ecco la nuova piazza municipio riaperta dopo oltre 20 anni di lavori con la lunga passeggiata che dal porto conduce verso Palazzo San Giacomo. La parte pedonale finalmente si riapre, c'è chi non ha mai visto questa piazza senza cantieri perché sono oltre 20 anni, 22 anni che sono un cantiere. Devo dire che si vede una piazza da sopra e tutti si chiedono ma com'è, 20 anni per fare questo? No, sotto c'è un'ingegneria che non finisce più perché sotto ci sono due linee della metropolitana, c'è la stazione di testa di una linea 6, ci sta il percorso archeologico e quindi diamo onore al merito. Però abbiamo accelerato perché col PNRR noi continuiamo di aprire moltissimi cantieri a Napoli, però dobbiamo dimostrare anche ai cittadini che i cantieri si aprono e si chiudono. Quindi questo è il primo importante che si chiudono, ne chiuderemo altri prima di Pasqua ma non vi dico quali. E un'altra notizia importante è che l'area che fa continuare questa piazza nel porto, ieri sono stati consegnati finalmente le aree alla concessionaria, adesso parte anche questa parte finale che anche sarà importantissima perché da qui sotto si arriva direttamente nel porto. Progettata da Alvaro Siza ed Edoardo De Mura, la piazza esalta la prospettiva che dalla stazione marittima guarda Castel Sant'Elmo sulla collina di San Martino. I preziosi reperti di epoca greca, romana e di età moderna hanno imposto numerose volte la rimodulazione del progetto. 140 milioni di euro spesi solo per gli scavi archeologici, qui sotto si è trovata veramente tutta la storia di Napoli dal porto romano fino alla città angioina, vicereale, borbonica. Quindi questa piazza progettata da Alvaro Siza sarà veramente il nuovo simbolo della città con questa forte verticalità, questo forte collegamento mare e terra dalla stazione marittima a Castel Sant'Elmo è veramente un colpo d'occhio fantastico. Finalmente abbiamo una parte importante di piazza municipio, un lavoro che è durato molti anni, che però rappresenta uno dei luoghi più importanti della città, non solo dal punto di vista simbolico ma anche perché è uno dei nodi di trasporto più significativi che questo ci consentirà adesso anche con l'apertura della linea 6 di essere uno snodo fondamentale. Ma poi c'è il collegamento che stiamo avvicinando alla zona del porto monumentale, quindi alla stazione marittima e questo è un altro elemento di connessione che avvicina Napoli al mare, quindi è un punto molto importante per la nostra città. I lavori che avevano già restituito ai cittadini il piazzale antistante il municipio con la cinquecentesca fontana del Nettuno proseguiranno su via Acton dove entro fine anno saranno ricollocati i binari del tram. Sotto la piazza si lavora ancora l'importante nodo di interscambio tra la linea 1 e la linea 6 della metropolitana proveniente da fuori grotta.